Il corso è un anno di presidenza, facciamo un bilancio di questi 12 mesi? Sì, grazie Pietro. È stato un anno bello da vivere in prima persona come presidente, perché è un'esperienza da fare per poter comprenderne non solo le responsabilità, ma anche le grandi visioni che se ne acquisiscono. È stato un anno bello anche perché ho condiviso tutto con i soci, con il mio direttivo, ed siamo riusciti ad intervenire silenziosamente, con molta umiltà anche sul territorio e i bisogni del territorio, oltre che a proporre argomenti di carattere culturale e storico che possono comunque interessare e hanno interessato i soci e gli amici del Rotary, ma hanno offerto la possibilità attraverso, per esempio, la presentazione di un volume sui palazzi storici che è entrato in cantiere con il nostro past president Francesco Di Biase e che siamo riusciti a pubblicare quest'anno. Ringrazio tutti, nessuno escluso, il governatore Nicola Uccello in primis, il nostro assistente Davide Calabria, tutti gli altri presidenti, perché è stato un bell'anno di squadra.